Quando si parla di sorpresa, già la parola fa pensare subito a una cosa bella, no? Ed effettivamente è così. Allora, innanzitutto, benvenuti, bentornati su Pausa Caffè, un saluto a tutti da Max, parliamo come al solito di gossip, mondo della tv, spettacolo e, visto che ci siamo, diamo un'occhiata al grande fratello VIP, che è l'argomento del momento. Sì, perché dopo giorni difficili causati dalla lite con Antonio Spinalbese, la concorrente della settima edizione del GF VIP, ovvero Jaele Dedonà, è felice per l'inaspettata sorpresa arrivata sul cielo della casa, la sorpresa. Quindi, avete già capito, no? Solo un paio di giorni fa alcuni concorrenti hanno architettato uno scherzo a Jaele, facendole credere che sulla casa stesse passando un aereo proprio per lei. «Jaele, alzati su, c'è un aereo per te!» Così avevano gridato Antonio Spinalbese ed Edoardo Tavassi. Svegliata dai due, Jaele aveva seguito i quei inquilini ed era uscita in giardino per poter vedere questo benedetto aereo che sorvolava proprio sulla casa. Quindi, uscita in giardino con il naso tutto all'insù per leggere il messaggino, così. Jaele è rimasta senza parole perché in cielo non c'era nessun aereo, però. «Jaele, va a dormì, che non c'è un ca... per te!» aveva detto Tavassi per poi scoppiare a ridere. Oggi invece l'aereo è arrivato per davvero. Il messaggio in inglese, il contenuto, ha subito fatto capire a Jaele che il mittente era proprio il marito, cioè l'imprenditore di cui abbiamo parlato un sacco di volte. Bad, no? Una bella sorpresa per Jaele, reduce da una brutta lite con Antonino Spinalbese, quindi una cosa bella gli farebbe solo che bene. Brad si è infatti fatto vivo con un aereo e un bellissimo messaggio che diceva «I love you more than the world turns», ovvero «ti amo più di quanto giri il mondo». E la stessa frase con cui tempo fa aveva concluso una lettera. Jaele allora è rimasta molto sorpresa per il messaggio del marito e si è emozionata e conseguentemente commossa. Sono giorni duri per la concorrente del GF VIP, reduce da questa benedetta cesalite con Antonino Spinalbese. Ebbene, l'ex di Belen si è infuriato con lei perché ha preso le parti di Oriana e ha minacciato di rivelare qualcosa di molto pesante sulla Dedona. «Eh, ma vai a Cagher? Devo parlare? Sì, del tuo triangolo con me. Cosa mi hai detto, Jaele? Eh? Come vedi, posso metterti in difficoltà. Ma io e te, la sappiamo qual è la vera verità. Se parlo io, farai una brutta figura, quindi non fare la furbetta». Queste le parole di un furioso Antonino che hanno gelato Jaele, che dopo un momento difficile ci ha pensato il suo Brad però a farle finalmente tornare il sorriso. E con questo lieto fine io vi ringrazio per l'ascolto di questo video. Se volete lasciate un bel pollicione in su e vi ricordo, se non siete iscritti al canale, che potrete iscrivervi oppure seguire la pagina. Mi raccomando!